benvenuti sul mio canale tutto dal web pierpaolo torna sui social e il corteggiatore di ida condivide sui social una frase che sembra essere un chiaro riferimento proprio al confronto avuto con l'attronista il rispetto scrive pierpaolo è un atto d'amore ciò che semini raccogli scrive il dj alludendo probabilmente alle motivazioni che l'hanno spinto a lasciare in mano modo il programma infatti sono volate parole pesanti durante l'uscita di scena proprio di pierpaolo che ha accusato ida di non essere una donna abbastanza forte parole forse mosse dalla rabbia dopo contro il rivale mario cursitore che dopo l'ultima bugia è stato messo alla porta da ida sta di fatto che ida nell'ultima puntata andate in onda si è mostrata molto provata di tutto ciò che è accaduto ma al tempo stesso delusa e per nulla intenzionata a proseguire il suo trono dopo tutto ciò che è successo con i suoi due corteggiatori con i quali si era concentrata per un'ipotetica scelta scelta che di fatti non c'è mai stata e voi cosa ne pensate scrivetemelo giù nei commenti lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto ciao e alla prossima